Dovevano essere come da tradizione luci di Natale, ma l'emergenza Covid ha costretto il Comune di Salerno a spegnerle sul nascere. La speranza è che posticipando l'evento alla prossima primavera, possano diventare luci di resurrezione, auspicio condiviso dall'assessore al commercio Dario Loffredo, che sin dal principio ha condiviso l'idea lanciata da albergatori e commercianti di posticipare luci d'artista al periodo primaverile. In queste ore la Giunta revocherà le procedure di gare in itinere e spera di poter dare appuntamento a cittadini, turisti e visitatori per il periodo pasquale. Il periodo non vuole che ci siano le luminare e luci d'artista e quindi non potrebbe essere un indotto per il turismo, per i commercianti, per i tanti turisti, perché queste cose sono vietate, quindi mi sembra assolutamente un gesto e un senso di responsabilità quello di posticipare l'evento. Nelle prossime giorni, settimane con il Sindaco faremo, credo, dei tavoli di programmazione con gli operatori del settore per cercare, chiaramente, sempre che la pandemia, come tutti quanti noi ci auguriamo, sia in una situazione più serena, più tranquilla per le nostre famiglie e per i nostri concittadini, di organizzare l'evento, casomai, nel periodo pasquale. Mi piace pensare che a Pasqua ci possa essere questo evento con il luminare della città come simbolo proprio di resurrezione della città e dei nostri commercianti.